C'è fermento per l'evento che dovrebbe rappresentare un buon auspicio più che un banco di prova per la nuova Pescara. L'invito lanciato dall'assessore cremonese sull'organizzazione con la collaborazione dei tre comuni ha già portato buoni frutti, sul dove per ora è difficile da stabilire e potrebbe essere in contemporanea nelle tre città. Dunque, cosa meglio di un concerto, ma già questa mattina dopo il tavolo di ieri inizia a delinearsi un nuovo quadro che va nella direzione delle aspettative annunciate dagli altri due assessori, da Deborah Comardi e da Roberta Rullo. Insomma, non solo musica, ma turismo e soprattutto cultura. Questo significa che nei prossimi giorni le addette all'organizzazione potrebbero vedere altre figure. E sul chi paga, particolare non di poco conto dopo le dichiarazioni dell'ex assessore al bilancio di Montesilvano, si guarda la regione, ma senza dimenticare le imprese private ed ecco che al tavolo di ieri vanno aggiunti altri partner. Tutti i comuni devono puntare sul turismo culturale, che al suo interno contiene tantissima roba, perché contiene gli eventi musicali, la cultura, i musei. Credo che ogni territorio in questa prima fase possa portare, e lo faremo nei prossimi giorni, una proposta concreta proprio per andare a caratterizzare questa tre giorni, oppure questa giornata che faremo insieme ancora come comuni autonomi, e che appunto, ripeto, deve essere poi ripetuta ogni anno, perché andrà a caratterizzare, andrà a ricordare quello che si è fatto, che appunto entrerà nella storia. Potranno esserci concerti, o potranno esserci anche un accordo tra i musei dei territori, possono essere così come è avvenuto da Montesilvano, un congresso che punti alla promozione turistica, che comunque ha anche il placette della regione. Insomma, nei prossimi giorni andremo a definire nel dettaglio il da farsi. Nei fatti l'invito dell'assessore cremonese ha innescato qualcosa di buono, ma tocca ricordare che i processi di fusione hanno luoghi deputati e che l'evento in sé sarà sicuramente un pezzetto di storia che pescaresi, montesilvanesi e spoltoresi manderanno a memoria. Già solo per questo non bisogna mortificare gli entusiasmi.